Buongiorno, ben trovati all'appuntamento di mattino 6 di giovedì 12. 12 novembre 2015, apriamo con la prima pagina del centro per vedere i titoli principali del quotidiano d'Abruzzo, siamo in provincia di Pescara a Montesilvano in particolare, Marina la scuola media e sparisce, scoperto per un mese di assenze, non rientra da lunedì dunque è scomparso questo ragazzo da Montesilvano, ragazzo minorenne che frequenta le scuole medie, dunque c'è apprezzione. Non solo nella famiglia per questa sparizione. E poi la fotonotizia di centro pagina, doping ricette false, nove condannati, pene per 27 anni di carcere. E poi le cronache, siamo a Pescara, notte di furti colpiti tre negozi a Porta Nuova. Poi il calcio, caos difesa per il Pescara, più che altro problemi per le indisponibilità di alcuni giocatori. Da ieri, vi avevamo dato notizie anche nel corso della seconda e della terza edizione del TG6 di ieri, c'è un giocatore in prova nel Pescara. Si tratta del ganese Pappoi, 22 anni, cresciuto calcisticamente nel Celsi. E poi un'altra morte per un incidente stradale in Abruzzo, nel Pescarese, in particolare a Civitella Casanova, investito un agricoltore di 80 anni. E' morto questo agricoltore, travolto da un'auto. Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire quello che è accaduto. Allora, lasciamo il centro, andiamo al messaggero. Vediamo la prima pagina, lo faremo tra pochissimo, del messaggero di Roma. Ovviamente la prima pagina di respiro nazionale. Poi inizieremo a vedere proprio le pagine interne del messaggero. E più avanti, ovviamente, apriremo anche le pagine di cronaca regionale. Prima pagina del messaggero, De Luca, la telefonata del giudice, il governatore indagato per la sentenza sulla sospensione. Io parte l'esa, dice il governatore della Campania. Ieri una conferenza stampa molto lunga del governatore della Campania, che si è difeso da queste accuse. Poi l'inchiesta, vati l'X, indagati gli autori dei libri, l'accusa, divulgate, notizie riservate. E poi il decreto giubileo sfuma il Dream Team, regia che dunque resta al governo. Poi c'è questa notizia che arriva dal Lazio. L'ex sabbate rubava i soldi della carità per vacanze da sogno. Monte Cassino, maxi sequestro al prelato che aveva sottratto alla diocesi. 588 mila euro. E poi siamo in Spagna, la Corte accoglie il ricorso del governo. Barcellona non ci fermiamo. In Catalogna c'erano state prove tecniche di indipendenza. Ma Madrid blocca la secessione. Allora andiamo a vedere le pagine interne del messaggero. Partiamo dalla vicenda De Luca. Dopo il verdetto su De Luca, il giudice telefono al marito. Ho finito. E' fatta oltre 100 intercettazioni nell'inchiesta per corruzione in cui è indagato pure il Presidente. Il PM fu minacciato, ma non si oppose. Dal pubblicito nelle urne agli show tv, Don Vincenzo Osceriffo contro tutti. Ieri, come vi dicevo, c'è stata questa conferenza stampa fiume di De Luca che ha rispedito al mittente tutte le accuse. E si è difeso da queste nuove accuse in questa nuova inchiesta. L'ira del governatore. Ecco, vedete, io sono parte lesa, do lavoro ai giornalisti più di Mardoc e precisa. Chiesi di essere ascoltato dai PM. Questo è un massacro mediatico, segno di barbarie da Napoli. Sfida sulla trasparenza. Proseguiamo. Il magistrato, mio marito ed io separati in casa, in procura, il compagno, la Scogna Miglio, mai contatti né con De Luca né con Mastursi. Vedete la foto di Anna Scogna Miglio. E dice, ho un nuovo fidanzato. Ma il coniuge vantava rapporti solidissimi. Lasciamo questa vicenda. Parliamo di politica. L'annuncio di Berlusconi e i forzisti. Per Roma puntiamo su Marchini. Dunque potrebbe essere Marchini il candidato del centro-destra alle prossime amministrative in primavera a Roma. E poi Renzi. Ora voglio chiarimenti. Che in Campania torna la faida PD e il gelo del Nazareno. Torniamo alla vicenda De Luca. Aspettiamo i giudici l'incognita pesa sulle comunali campane. Il leader frena i suoi, per adesso non è un nuovo caso marino, ma non blinda, De Luca. Dunque piuttosto freddo il PD sulla vicenda De Luca. Cambiamo argomento. In carichi nella pubblica amministrazione salta il tetto ai pensionati. Fisco sanatoria solo per i funzionari. Vi è il limite di un anno alle consulenze, a chi è in pensione, promozione per 700 lavoratori delle entrate. Stop ai dirigenti. Proseguiamo. Bot annuali con tassi sotto zero. Il tesoro risparmia 2 miliardi. Per la prima volta i titoli collocati ad un rendimento negativo dello 0,03%. Con l'asta di ieri è stato assicurato il 95% del fabbisogno di tutto il 2015. Proseguiamo. Siamo a Roma. Giubileo sfuma il Dream Team. Cabina di regia Palazzo Chigi. Venerdì in Consiglio dei Ministri il decreto. A meno di sorprese dell'ultimora, Gabrielli resta coordinatore al commissario Tronca. Andrà l'intera gestione delle opere e degli acquisti per l'anno santo. Ancora avanti. Catalonia indipendente. Stop della consulta. Barcellona risponde. Si va avanti. Il governo locale sfida Madrid. Ubbidiamo al nostro Parlamento sovrano Rajoy che il primo ministro spagnolo risponde. Non vi permetteremo di rompere la Spagna. E dunque Barcellona, la Catalonia, soprattutto la Catalonia vuole staccarsi e diventare indipendente in un certo senso dal paese iberico. Vediamo qui in questo specchietto anche un po' di numeri che riguardano la Spagna. 46 milioni di abitanti. 7 milioni e mezzo sono gli abitanti della Catalonia. Vedete che in Catalonia si parla il catalano. Comunque la lingua per così dire ufficiale. Ma è uno spagnolo riadattato. Mentre nel resto della Spagna il castigliano. Vedremo come andrà a finire questa guerra Barcellona-Madrid che è nel calcio la sfida più antica e una delle più sentite in campo europeo. Prodotti marchiati scontro Unione Europea-Israele in tutti i paesi europei. Sarà obbligatorio indicare sulle merci la provenienza dai territori occupati. Netanyahu, primo ministro israeliano, dice vergogna. Bruxelles sminuisce nessun boicottaggio ai consumatori. La libertà di scegliere, dice l'Unione Europea. Tel Aviv riduce i rapporti diplomatici. Dunque c'è anche questa novità per quanto riguarda i prodotti marchiati e questa polemica Unione Europea-Israele. Siamo all'inchiesta alla vicenda Vatilix. Indagati anche i giornalisti. Linea dura del Vaticano contro Fittipaldi e Nuzzi, che sono i due giornalisti autori dei due libri usciti in questi giorni sul Vatilix. Autori dei libri, appunto, a Vatilix e a Via Crucis, altre persone nel mirino accusati dalla Santa Sette di aver divulgato notizie riservate. La replica, così si difende il potere quando vengono scoverchiati gli scandali. Vediamo in questo specchietto i protagonisti di Vatilix 2. Lucio Angel Valleio Balda, un prelato che avrebbe passato ai giornalisti carte della Cosea. Poi Francesca Immacolata, sciacquì, lobbista ed ex membro della Cosea. E poi due giornalisti, Gianluigi Nuzzi di Libero, tra l'altro giornalista anche di Mediaset, autore del libro Via Crucis. E Emiliano Fittipaldi, autore dell'altro libro su Vatilix, Avarizia, giornalista del settimanale L'Espresso. Proseguiamo, rimaniamo in argomento di chiesa, ma per un'altra vicenda che ha creato sicuramente gran rumore e fermento in queste ultime ore. Monte Cassino, l'abbate rubava l'otto per mille. Pietro Vittorelli, fino al 2013 a capo del monastero, è accusato di aver spostato oltre 500 mila euro sui suoi conti personali. Già segnalato per le serate mondane con ecstasy e i viaggi in alberghi di lusso, spesi fino a 34 mila euro in un solo mese. Vedete, nella foto, Don Pietro Vittorelli con Papa Ratzinger durante un'udienza a San Pietro. Sotto c'è una veduta aerea dell'abbazia di Monte Cassino, la storica abbazia di Monte Cassino, fondata nel 529. E sotto, a fondo pagina, il Papa parla dei buoni comportamenti che ognuno di noi dovrebbe adottare. A tavola, dice il Pontefice, niente telefonito. L'invito di Francesco alle famiglie, c'è sempre meno comunicazione nelle case, spegnete la TV mentre mangiate. E proseguiamo, sì, alla selezione degli embrioni sani. Fecondazione assistita alla consulta, dichiara illegittimo il divieto alla scelta nel caso di gravi malattie genetiche. Cade il veto previsto dalla legge 40. Resta invece in vigore quello relativo alla soppressione di divisi partiti e associazioni. E poi una notizia di cronaca che arriva dalla Lombardia, esplode una condotta a due feriti, fuga di gas, crolla una villa, un morto a Milano. Proseguiamo, siamo alle pagine dell'economia. Sul piano Unicredit con 18.200 esuberi, Ghizzoni, l'amministratore delegato dice risparmieremo 1 miliardo e 600 milioni con le nuove misure in Italia a taglio di 6.900 posti entro il 2018. In maggiore efficienza, più redditività e forza patrimoniale al 12,6% per mettersi in linea con Francoforte. Nei prossimi tre anni, distribuito il 40% dell'utile. Nei nove mesi, profitti netti per un miliardo e mezzo. E poi c'è l'effetto Ucraina. E poi sotto si parla di editoria, Caltagirone Editore, trimestre in crescita, Caltagirone Editore che è l'editore appunto del quotidiano Il Messaggero. Salva banche, fondo depositi in pressing su Bruxelles, si apre un confronto non stop con l'appoggio dell'Abi sul tavolo, il piano di intervento diretto. Infine Bagnoli, arrivano i fondi dal governo al Consiglio dei Ministri di venerdì, il decreto che stanzia 50 milioni destinati per la bonifica del sito appunto di Bagnoli. Le nuove risorse si aggiungono ai 70 milioni nella disponibilità del Comune entro l'estate 2016. La gara. Chiudiamo il Messaggero e le pagine nazionali. Passiamo al centro per vedere anche in questo caso le pagine nazionali del quotidiano d'Abruzzo. Pagina 2, si parla di politica e giustizia, De Luca si sente vittima, dice io parte l'ESA, si parla della nuova inchiesta che ha riguardato, che riguarda il governatore della campagna De Luca, indagato per concussione e per la procura. È stato ricattato, sentenza in cambio di nomina. E poi vedete in basso una campagna mediatica contro di me, l'ex sindaco dice, manna questa parola mi ricorda solo quella della Bibbia e cita Eraclido e Mardoc, dunque De Luca che ha attaccato anche in un certo senso i giornalisti. Il PD col governatore, ma senza entusiasmo, come abbiamo visto anche dalle pagine del Messaggero, c'è stata un po' di freddezza da parte del Partito Democratico. Il Movimento 5 Stelle invece chiede le dimissioni del Presidente. Il Ministro Orlando, fare luce sulla posizione del giudice dal Nazareno, il distinguo con la vicenda Marino a Roma. E poi c'è l'intervista qui in basso a Fassina, noi alternativi ai democratici atti del governo incompatibili con il centro-sinistra. Fassina uno dei leader della nuova formazione politica che si è creata nelle ultime settimane con molti ex PD che hanno lasciato proprio il Partito Democratico per andare a formare questo nuovo partito. Legge di stabilità, il PD salva i funzionari delle entrate, i retrocessi d'altar manterranno stipendio e funzioni, spunta la sanatoria, spiagge, sconto del 100% su neoassunti al sud. E poi Renzi, il Premier ai professori, ora non siete più precari, lettera del Premier ai docenti per spiegare la buona scuola. E poi nuove misure, beni confiscati, arriva la riforma, dalla Camera, il via libera, il codice antimafia, c'è la norma saguto. Proseguiamo, politica internazionale, cronaca internazionale in questo caso, Mosca, pene dure per il doping, la Russia si allinea alle richieste per evitare la sospensione per due anni, domani la decisione della IAF. E poi migranti, ancora una strage. Nel mare Geo proseguono gli sbarchi, ma è chiaro che con le condizioni meteo che stanno cambiando, purtroppo diventa sempre più rischioso fare questi viaggi attraversando il mar Mediterraneo con condizioni spesso molto difficili. Rubati soldi per i poveri, l'ex abate finisce nei guai, bufera giudiziaria sul celebre monastero di Monte Cassino, spariti 500 mila euro, Don Vittorelli indagato per appropriazione in debita, aggravata e abuso d'ufficio. E poi la vicenda Vatilix, i libri inchiesta, come abbiamo visto, il Vaticano indaga sui due giornalisti autori dei libri, proprio sugli ultimi scandali in Vaticano. Truffa sull'olio, nuovi reati in vista, certamente della procura di Torino sulle modalità di produzione, sette aziende nel mirino. Poi Milano salta la tubatura del gas, un morto, abbiamo visto questa esplosione di una villetta. E poi la fecondazione assistita, messa alla selezione di embrioni, la consulta sulla legge 40, pratica consentita per gravi malattie. Poi un'altra notizia che arriva da Treviso, un'altra tragedia, studente investito da un treno in stazione, era con le cuffiette e non si è accorto del treno in arrivo. Siamo le pagine d'Abruzzo, del centro, pista ciclabile, via verde, 15 imprese per 10 milioni, Chieti aperte le buste, l'appalto va aggiudicato. Entro il 31 dicembre, Pupillo, presidente della provincia di Chieti, dice l'impegno è di vederlo, realizzato in due anni. Si parla poi di sanità sul tavolo ministeriale, piano operativo 2016-2018, ultimi passi al tavolo di monitoraggio. E poi ancora, cronaca dalla regione, allo studio voli per la Turchia. L'ambasciatore della Turchia in Italia incontra il governatore D'Alfonso. C'è un nostro interesse e il governatore propone infatti l'apertura anche di un consolato onorario. Proseguiamo, noi presidi manager alla sfida della sicurezza, la buona scuola vista dai dirigenti, alla luce anche della condanna del rettore del convitto dell'Aquila. I nuovi compiti si sono aggiunti a tante situazioni delicate. Poi bocchia il dirigente del liceo scientifico Da Vinci di Pescara. Tanti problemi, responsabilità, ma se c'è voglia di cambiare, dice il dirigente scolastico dello scientifico Da Vinci di Pescara. E poi siamo alla protesta degli allevatori abruzzesi. La nostra scamorza rischia di scomparire nella guerra del latte. Manifestazione di protesta ieri degli allevatori abruzzesi. In 25 anni ha chiuso l'80% delle stalle. Ieri c'è stata questa manifestazione a San Giovanni Teatino. Tanti gli allevatori in strada, noi con le nostre telecamere, siamo andati a vedere proprio questa protesta, a seguire questa protesta e ad ascoltare anche le ragioni degli allevatori. Vediamo il servizio. Presidente Pasetti, quali i motivi della protesta di oggi a San Giovanni Teatino? Prima di tutto per rispolverare l'importanza di un settore, quello zootecnico, che è vitale per alcune aree. Il settore zootecnico è una realtà economica sommersa, che non si vede, non ce ne accorgiamo quotidianamente della sua importanza, però è un settore che rende ancora vivo e vitale una parte di questa regione, che è quella parte interna, che socialmente non possiamo abbandonare. Sono circa 15.000 le famiglie che dipendono da questo settore, perché se consideriamo 5.000 dipendenti nel settore, mediamente 3 persone per ogni famiglia, sono 15.000 persone. Negli ultimi 10 anni le unità impegnate si sono ridotte circa l'80%, abbiamo ancora circa 500 aziende in regione che cercano di sopravvivere. E' sopravvivere. Letteralmente sopravvivere perché abbiamo una situazione paradossale, nel senso che il sistema comunitario negli ultimi anni ha fatto sì che il prodotto latte e i suoi derivati non fosse più un prodotto agricolo, ma bensì una merce industriale. Quello che chiediamo a gran voce è che venga definitivamente approvata la norma sulla etichettatura su tutti i prodotti del latte, per esempio sul latte HT non c'è la provenienza, quindi non sappiamo da dove proviene, però i dati ci dicono che su ogni 4 bottiglie di latte OHT vendute in Italia soltanto una bottiglia è di provenienza italiana, il resto è di provenienza estera, quindi di dubbia provenienza, perché non sappiamo se è fatto con il latte fresco, se è fatto con le cagliate, se è fatto con la polvere del latte. Quali prospettive ci sono per un giovane che come te ha deciso di intraprendere questa professione? Ad oggi le prospettive sono zero, forse sotto zero, perché con i prezzi che ci impongono e i controlli, è giusto che ci siano i controlli, però solo averli qui in Italia non è giusto, perché se l'Europa è unita, l'Europa dovrebbe avere tutti i controlli che ha l'Italia, perché noi siamo destinati a chiudere con questi prezzi, con i nostri costi e con le difficoltà che ci sono oggi. Cambiamo argomento, parliamo di banche, carichieti, salvataggio appeso all'Unione Europea, dubbi di Bruxelles sull'intervento del Fondo Interbancario Italiano, sindacati preoccupati, e poi la notizia che riguarda invece l'Unicredit, che dichiara 18.000 esuberi in Italia, previste 6.900 uscite. Lasciamo il centro, vediamo le pagine della cronaca regionale del Messaggero, la prima pagina con i titoli principali proprio dell'inserto Abruzzo, l'Aquila, la fretta del maxi appalto, tangenti e favori per la casa Don Bosco, in un mese prima si sblocca la riparazione dell'oratorio, poi con permesso in deroga il cantiere da 28 milioni, il Jeep dice Riga sapeva, c'era anche Mancini, e poi rapina in vila e folle e corsa in auto nella notte, prima il colpo a Guardiagrele, poi la fuga inseguiti dai carabinieri, e la caccia continua, Abruzzo alle prese con questi furti, con queste rapine in varie zone della nostra regione, e poi stadio e ponte del cielo, ecco perché sì, il comune replica alla soprintendenza sul restyling dello stadio adriatico e sulla costruzione del ponte del cielo. L'altra pagina che riguarda la cronaca regionale, aeroporto e polemiche, da Alfonso Rilancia, con i voli per la Turchia, ieri l'ambasciatore a Pescara, D'Alessandro respinge le critiche sui fondi alla saghe, annuncia nuove rotte con gli hub di Roma, Milano e Monaco, e poi la sanità, l'assessore alla sanità Silvio Paolucci dice il ministero ci fa i complimenti entro l'anno fuori dal commissariamento, e poi una notizia che riguarda i laboratori del Gran Sasso, dove si lavora per la ricerca della materia oscura, prima di passare, allora, alle pagine provinciali dei nostri quotidiani, poi leggeremo anche il quotidiano della città di Teramo, siamo al meteo con il nostro Giovanni De Palma, che vado a salutare, Giovanni, buongiorno. Buongiorno Paolo, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora Giovanni, ieri sera, perlomeno a Pescara e anche questa mattina, c'era una nebbia molto fitta, si vedeva davvero poco, ma anche in molte zone della nostra regione, dicevo ad un mio amico per fare una battuta, proprio ieri sembrava di stare a Novara quando non si giocò la partita Novara-Pescara per nebbia, ieri c'era questa nebbia piuttosto fitta in città, che poi è rimasta anche per tutta la notte, un fenomeno ovviamente non insolito per la nostra regione, però neanche un fenomeno che siamo abituati a vedere spesso in Abruzzo. Esattamente Paolo, esattamente il fenomeno di quello della nebbia dovuto alla persistenza di una bassa area di alta pressione che ormai da diversi giorni continua ad interessare gran parte del Mediterraneo, ormai questa alta pressione si è adagiata sulla nostra penisola dove continuerà a persistere almeno fino alla giornata di sabato, garantendo da un lato condizioni di tempo stabile, è soleggiato soprattutto sulle zone collinari, alto collinari e montuose dove le temperature massime saranno ancora ben al di sopra delle medie stagionali. Di conseguenza la persistenza dell'alta pressione, l'accumulo di umidità nei bassi strati, poi ovviamente il mare fa il resto con l'accumulo di umidità, quindi di conseguenza si formano questi strati nebbiosi che interessano soprattutto i litorali, la fascia costiera e localmente anche le valli interne dell'Aquilano, soprattutto durante le ore più fredde della giornata. Ma durante le ore più calde insomma è prevista una parziale attenuazione del fenomeno, delle nebbie che però potranno riproporsi in serata e in nottata, ripeto, soprattutto sulle zone costiere e sulle zone collinari prossime alla costa. Quindi Paolo non cambierà di molto la situazione fino alla giornata di sabato, continuerà il dominio anticiclonico e il clima mite in quota, soprattutto in quota. Ma attenzione perché poi pian piano da domenica la situazione inizierà a cambiare, perché quest'area di alta pressione inizierà ad attenuarsi, soprattutto sulle regioni settentrionali e sul versante adriatico e ciò permetterà alle correnti atlantiche, pur marginalmente, pur via tutto molto marginalmente, a raggiungere soprattutto il settore alpino, il settore nord orientale e sfiorare il versante adriatico, quindi ci sarà la possibilità di annuvolamenti tra sabato e domenica. Non ci dovrebbero verificare precipitazioni, ma si tratta comunque di un piccolo disturbo che però favorirà una diminuzione delle temperature, soprattutto stavolta sulle zone collinari, alto collinari e montuose. Quindi il clima mite di questi giorni tendrà progressivamente ad attenuarsi, perché poi tra lunedì e martedì transiteranno ancora dei corpi nuvolosi, non si tratta di sistemi nuvolosi piuttosto organizzati, però insomma avremo comunque degli annuvolamenti, localmente qualche piovasco, ma nulla di più, perché poi successivamente, almeno alla luce dei dati attuali a nostra disposizione, sembra possibile un nuovo ritorno dell'alta pressione a partire da metà settimana, anche se ovviamente quest'ultima tendenza andrà necessariamente, dovrà essere necessariamente confermata nel corso dei prossimi aggiornamenti. Giovanni, possiamo dire che dunque stenta a decollare, ad arrivare l'inverno? Sì, diciamo che è ancora presto, però devo sottolineare comunque l'anomalia, l'anomalia caratterizzata dalla persistenza di questa solida e forte struttura di alta pressione con, diciamo così, geopotenziale, vuol dire una struttura ben forte anche in quota che solitamente si verifica in altri periodi dell'anno, non certo in autunno. Ci può stare l'anticiclone, ci può stare il clima mite, ma non la persistenza e comunque le temperature elevate che si stanno registrando in questi ultimi giorni, ripeto, soprattutto sulle zone collinari, alto collinari e montuose. In pianura cambia poco o nulla perché l'aria fredda tende, l'aria fredda essendo più pesante, tende a persistere, a stazionare nelle pianure e nelle valli, quindi la differenza di temperatura è minima nelle valli, ma basta salire un po' in quota sui 300-400 metri o ancora di più e il clima mite si avverte, le temperature possono superare abbondantemente i 20-23 gradi in molte zone della nostra regione, Paolo. Saranno contenti gli amanti del caldo, comunque tutti coloro che non amano il freddo. Io ringrazio Giovanni De Palma, grazie Giovanni, buona giornata, buon lavoro, appuntamento con te come sempre domani alle 7.20 per un nuovo appuntamento con Mattino 6 e con il Meteo. Grazie, buon lavoro, buona giornata. Grazie Paolo, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Grazie a tutti. Noi ci fermiamo ora per qualche istante, poi torneremo in studio per la seconda parte di Mattino 6. Nuovo in studio per la seconda parte di Mattino 6, siamo alle pagine provinciali, partiamo dal centro, cronaca di Pescara, cronaca nera, in questo caso tre spaccate a Porta Nuova e la banda dello scooter, vetrine sfondate nella clinica veterinaria in un negozio di bomboniere e alla IP. E poi arrestato dopo essere sceso dal taxi, il rapinatore della farmacia Perbellini è stato incastrato dalla telecamera. Dieci colpi in 80 chilometri, episodi fotocopia tra Pescara, Giulianova, San Benedetto del Tronto e Grotta Mare. E la stessa mano, prese di mira, otto tabaccherie, una banca ed un centro telefonini, il bottino supera i 200.000 euro. E poi restano in cella gli aggressori del 15enne, rapinato sul bus nelle aree di risulta della stazione di Pescara. Andiamo avanti, la sentenza, doping e ricette false, nove condannati. Il Tribunale infligge pene per 27 anni e multe per 24.000 euro il traffico di farmaci vietati, stroncato dai carabinieri del NAS. Portami qualcosa, sto male, sono in calo le intercettazioni alla base del processo. Andiamo ancora avanti, sempre da Pescara, indennità ridotta, centro per l'impiego pronto a fermarsi. La provincia fissa il tetto mensile per il disagio a 30 euro e scatena la polemica del personale. Dicono i lavoratori, tagliano le briciole. Andiamo ancora avanti, rifiuti e siringhe sulla pista ciclabile. Pescara Bici denuncia degrado ed incuria sul lungo fiume sud e piccole discariche si alternano a panchine e cestini divelti. E poi diabete dal 16 al 19 di novembre, test gratuiti all'ospedale civile di Pescara. E poi la tragedia ai colli, ricorderete ieri l'anziano precipitato dal balcone della sua abitazione. Oggi ci saranno, questa mattina, i funerali, dunque l'addio al 78enne di Pescara. E poi c'è lo studio, dunque siamo all'economia, lo studio della CNA, impresi in aumento, ma l'artigianato è in flessione. Proseguiamo. Le pasticcerie d'oro conquistati palati al Cake International, frissa e schiazza brillano alla manifestazione di Birmingham con dolci ispirati al grande Totò e alle georgiche di Virgilio. Proseguiamo. Il concerto Malika Ianni incanta tutti, tra canzoni naif, paillette e applausi, teatro Massimo Grimito per l'esibizione della cantante. E poi a spoltore, tornando alla cronaca, più aiuto agli inquilini morosi, incrementate le risorse per chi non riesce a pagare i canoni d'affitto. A Pianella, invece, il codice stradale insegnato ai bimbi delle scuole primarie. Siamo alla pagina di Montesilvano. Studente sparito da lunedì, scoperto a marinare la scuola, scompare Alessandro Sessa, 14 anni, frequenta la media delfico, ha già saltato un mese di lezioni. L'appello del padre. E poi in basso, a fondo pagina, risarcimenti facili e la Corte dei Conti, caso Saitem, il Movimento 5 Stelle chiede accertamenti sugli indennizi pagati dal Comune sugli incidenti stradali. Andiamo ancora avanti. Pagina dell'Interland di Pescara. In questo caso siamo però a Francavilla. Non è il buon samaritano. Ecco le spese di Luciani. Il consigliere di minoranza di Renzo del PD ricorda il sindaco che nei primi anni di mandato ha chiesto il rimborso. Tutto regolare, ma perché non dirlo? E poi Cepagatti. Ritirati 50 passi intestati a defunti. Le verifiche della Polizia Municipale sui contrassegni dei disabili. E poi siamo ancora di nuovo a Francavilla. Piscina chiusa da un anno da Paolucci Solo Promesse, istituto di riabilitazione Santa Caterina, mercoledì la protesta e a Cepagatti. Barriere antirumore. Un altro SOS del consigliere assessore, anzi del Comune di Cepagatti, Camillo Sborgia, al Ministero. Proseguiamo. Cronaca di penne, popoli dell'Alta Val Pescara. Ancora un incidente stradale mortale nella nostra regione. Travolto da un'auto sul ciglio della strada. Civitella Casanova, un agricoltore di 80 anni investito da una donna. L'investitrice sotto shock dice non l'ho visto. E a Castiglione, a Casauria, la forestale salva un lupo dalla trappola dei bracconieri. Mentre a Tocco da Casauria, alla CIR, scatta la mobilità per 80 addetti di Tocco. Proseguiamo. Siamo alla pagina di Chieti del centro cantoniere assenteista con il secondo lavoro. Agostino Ramondo, 53 anni di Casoli, nel negozio della moglie. In orari di servizio accusato anche di prendere legna pubblica. Siamo a Guardia Grele, svaliggiata la villa dell'Industriale, rubati 5.000 euro ai gioielli, in seguimento nella notte, alla ricerca dell'audi nera. E poi una cronaca giudiziaria che arriva di nuovo da Chieti. Molestie sessuali alla commessa a giudizio. L'udienza rinviata, accolta la richiesta della difesa di una perizia sulla capacità dell'imputato. E siamo alla pagina dell'Aquila, del centro ex vice sindaco broker agli arresti per 15 giorni. Appalto Salesiani nella bufera per i legami tra Riga e l'imprenditore Mancini. Religiosi committenti sfiorati dall'inchiesta. Il PM voleva i sigilli ad una casa. Dunque nuove rivelazioni sull'ennesima bufera giudiziaria che ha riguardato il post-sisma all'Aquila. Da noi nel servizio che segue andiamo a fare il punto della situazione su questa vicenda. Nomi che fanno rumore. Un contesto che ora dopo ora si va chiarendo sempre di più, stando alle carte della magistratura. E sullo sfondo una città, ancora una volta al centro dei media, per vicende legate a corruzione, appalti pilotati e un fiume di soldi pubblici utilizzato per agevolare amici e amici degli amici. Si arricchisce di nuovi particolari l'inchiesta che ha portato agli arresti domiciliari l'ex vice-sindaco dell'Aquila ed ex assessore all'urbanistica Roberto Riga e l'imprenditore Massimo Mancini, numero 2 dell'Aquila Calcio. Nell'ambito dello stesso procedimento risultano indagati anche il dirigente comunale Vettorio Fabrizi e l'ex capo dell'ufficio speciale per la ricostruzione Paolo Aielli, attuale amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Altri due imprenditori sono interdetti dalle attività di esercitare imprese e ruoli direttivi in attività con personalità giuridica, si tratta di Simone Lorenzini e Sandro Martini. Tutto ruota la ricostruzione dell'intero complesso salesiano, che stando alle procedure si sarebbe dovuto finanziare con un importo massimo di 80.000 euro e che invece, stando alle ipotesi investigative, grazie all'intervento di Riga, avrebbe beneficiato di un contributo da 28 milioni e mezzo di euro per lavori che poi ha eseguito la ditta Mancini. L'ipotesi accusatoria nei loro confronti di corruzione, che per magistrati e guardie di finanza si sarebbe materializzata con soldi che Riga avrebbe utilizzato per comprare auto ed appartamenti, poi affittati ad un canone fuori mercato proprio a Mancini. Ipotesi di corruzione anche per gli imprenditori Lorenzini e Martini, mentre Aielli e Fabrizi sono finiti nel mirino della magistratura per concorso in abuso d'ufficio, in quanto avrebbero dovuto rilevare l'irregolarità della pratica e fermarla prima dell'erogazione del maxi-contributo. Il sindaco Cialente si è detto addolorato e nauseato per questa vicenda, mentre il deputato abruzzese Gianni Melilla è tornato ad invocare la creazione di una commissione di inchiesta sulla ricostruzione post terremoto. Siamo alla cronaca di Teramo, sempre dalle pagine del centro. Donne picchiate 104 al pronto soccorso dall'attivazione del progetto in continuamento, progetto e protocollo codici rossa. Aumentati i casi di violenza sono quasi tutte italiane, malmenate in famiglia. E poi c'è il racconto qui di Spalla, presa a pugni, era disperata, non è riuscita a denunciarlo. Cinque donne sindaco per la prevenzione, la ASL gira uno spot per promuovere le adesioni agli screening all'utero, alla mammella e al colon. Dunque questo spot girato da cinque donne sindaco del Teramano. Allora prima di passare allo sport dobbiamo ovviamente andare a leggere insieme le pagine prima del messaggero e poi della città di Teramo. Siamo al messaggero, la cronaca dell'Aquila. L'IDV difende De Santis ma non va via. Il vertice del partito si conclude con una solidarietà all'assessore che non comporta l'uscita dalla coalizione che guida il comune. Prima si chiederà a Cialenti di reinserire in giunta l'escluse e poi allo scontato rifiuto si provvederà a proporre nuovi nomi. Morosi, ultima possibilità, si del sindaco alla rateizzazione in tre fasi al massimo. Teatro stabile, serata al ridotto con il Gran Guignol. Proseguiamo. Oratorio, la strana urgenza del maxi appalto. Torniamo all'inchiesta di cui abbiamo parlato anche nel servizio di qualche istante fa. Tangenti e favori per i lavori destinati alla nuova casa Don Bosco nella ricostruzione del GIP. Il paradosso sotteso del liter velocissimo a settembre del 2011. Parte la riparazione della struttura per i ragazzi. Poi a ottobre in deroga scatta il secondo cantiere da 28 milioni. Gabrielli, qui né Sodoma né Gomorra, le cifre dicono che sono singoli appetiti. Dunque la visita di Gabrielli, tra l'altro impegnato in questioni che riguardano il comune di Roma nelle ultime settimane. Ha parlato anche della città dell'Aquila e di quello che è accaduto nelle ultime ore. Campomizi, una gara falsata. Nella sua interezza la procura, la ditta era stata già scelta al di fuori delle procedure e subappaltava. Parte alla Barattelli. Andiamo ancora avanti. Siamo alla pagina di Avezzano Sulmona. Imprenditori marsicani nello scandalo in Vaticano. Maurizio e Sabatino Stornelli in un edificio hanno realizzato a Roma lussuosissime suite. E poi Sulmona, la cronaca, movida violenta in città. Sono stati arrestati tre giovani. La polizia li ha identificati dopo due mesi dall'aggressione. Tra loro c'è anche un quindicenne. Ieri vi avevamo mostrato il servizio su questa vicenda che è accaduta proprio a Sulmone. Poi Avezzano, falso gratuito patrocinio. Catalano condannato. Il 47enne uccise l'ex pugile Callegari. Siamo alla cronaca di Pescara. Stadio e Ponte del Cielo. Ecco perché sì, il Comune risponde alla soprintendenza sulle due opere. Diodati, assessore allo sport, a diatico Cornacchia. Troppo oneroso va ceduto. La nave di Cascella era concepita per Piazza Salotto. Nessun vincolo per la vista mare, sostiene il vice sindaco di Pescara del Vecchio. E poi ancora cronaca da Pescara. La figlia di Maniero fu ammazzata dal carcere di Padova. La rivelazione di un detenuto smonta dopo nove anni la tesi del suicidio con cui il caso fu archiviato. L'ex boss scettico, cautela della squadra mobile, che però non esclude piani per una vendetta trasversale contro il pentito. Ricorderete questa vicenda che fece davvero molto rumore con la figlia di Maniero trovata priva di vita sotto la sua abitazione in pieno centro a Pescara. E poi incastrato dalle immagini, confessa il rapinatore arresto lampo del reparto prevenzione e crimine dopo il colpo in farmacia. Trovata l'arma. E poi presi per la gola pizzaioli, pasticceri e barman. Boom dei corsi professionali. Siamo alla pagina dell'area metropolitana di Pescara. Il suocero fa causa al comune vince bufera su Maragno. Avevamo letto questa notizia, avevamo parlato di questa notizia anche nella puntata di ieri di mattino 6. L'amministrazione non va in giudizio, pagherà 3.000 euro a Di Giovanni. Scambio di accuse tra Ruggero ed il sindaco. Sospiri, rimborsare i terreni anti-esondazione del fiume. Il capogruppo di Forza Italia e Regione illustra i suoi emendamenti alla legge a tutela dei proprietari. E poi la cronaca. Travolto da un'auto muore a 88 anni. Strade di sangue. Ennesimo incidente mortale, questa volta nella nostra regione, nel Pescarese, a Civitella, a Casanova. Siamo a Chieti, ripulita dai ladri nella notte Villa Zulli, in particolare colpo grosso a Guardia Grele, nell'abitazione dell'imprenditore e del figlio avvocato. Forzate con la mola, tre cassaforti. E poi cardiochirurgia. Si parla di sanità, ora si fa sul serio. Trasloco nel Nuovo Polo entro Natale. E poi Aula Verde in Via Pescara. Festa con olio e castagne. Vi anticipo che oggi, nel corso del TG6, vi proporremo proprio un servizio su questa importante inaugurazione di una delle prime Aule Verdi in una scuola della nostra regione. E siamo alla pagina di Lanciano. Va a Stortona. Falsifica le presenze al lavoro. Arrestato per truffa, cantoniere 53enne di caso. L'inchiodato dei carabinieri si assentava per aiutare la moglie nella gestione del negozio. Lanciano. Lavori finiti dopo anni alla nuova ala del cimitero. E poi siamo a Vasto. Ladri acrobati in azione. Raffica di furti negli appartamenti. Infine Ortona. Bandi per case popolari e morosità incolpevole. Siamo alla pagina di Teramo. Teramo mare contro mano. Tragedia sfiorata. Ieri un 74enne ha imboccato la carreggiata in direzione L'Aquila, ma in senso contrario. Ha causato due scontri. Quattro feriti. Fortunatamente lievi. Poco prima dell'uscita di Bellante, dopo aver percorso nove chilometri, ha impattato frontalmente contro un SUV. E poi sindaco e assessori disabili per un giorno. Previsto ora un consiglio straordinario. Ieri la manifestazione a Teramo con l'associazione Carrozzine Determinate. E poi si parla di economia, d'amico, capacità industriali notevoli. Il rettore dell'Ateneo punta anche sulle start-up. Il movimento di svolta c'è, dice il rettore dell'Università di Teramo. Proseguiamo. Pagina di Genova. Roseto, Val Vibrata. Comune. Anche Mellozzi si dimette. Il consigliere di Civicamente va via per motivi personali. A suo posto entra Carlo Mustone. Ieri sera, riunione del gruppo, in discussione la questione. Per indicare chi potrebbe essere il sostituto di Guido Baldi, che aveva lasciato nei giorni scorsi nel PD incontro per la proposta Filipponi. Tortoreto, padre di un consigliere, ruba le olive al comune. Tornando a Giulianova, rapina nei pressi della stazione. Arrestati due stranieri. E poi al Badriatica, l'area del casello della 14. Degrado e poca sicurezza. Infine Roseto, pista ciclabile. Arriva l'ok del Consiglio Comunale. Siamo alle pagine dello sport, ma ovviamente dobbiamo ancora attendere, perché siamo arrivati alla lettura delle pagine del quotidiano La Città di Teramo. Vediamo la prima pagina. Pericolo pubblico in superstrada. Anche qui sul quotidiano La Città ritroviamo la vicenda accaduta ieri con l'anziano che ha percorso 10 chilometri contromano sulla Teramo mare. Doppio incidente con feriti fortunatamente lievi e poi politici disabili. Per un giorno la manifestazione di carrozzine determinate a Teramo. Andiamo a vedere le pagine interne. Abruzzo, capocantoniere assenteista in manette, timbrava il cartellino e andava ad aiutare la moglie all'edicola di famiglia. E' accusato di truffa, peculato e falso ideologico. Poi ambiente, il caso Ombrina Mare sta mandando in tilt il Ministero. Il coordinamento Notriv riaccende la speranza. E poi parliamo di caccia. La Giunta ha approvato il calendario definitivo della stagione venatoria. Cronaca, pericolo pubblico, fa 10 chilometri contromano, 74enne in bocca alla superstrada a Teramo, controsenso e si schianta a Bellante. Due incidenti, feriti non gravi. Teramo, politici teramani, disabili per un giorno. Vedete le foto della manifestazione che si è tenuta in pieno centro a Teramo con l'associazione carrozzine determinate del suo presidente Claudio Ferrante. Proseguiamo. Due medici sotto inchiesta per la morte del civilista. L'avvocato Chiurazzi, colto d'attacco cardiaco subito dopo la visita della guardia medica. Oggi i funerali. Andiamo ancora avanti. Carenze d'organico, distacchi volontari di sei mesi, dipendenti regionali prestati alla procura. E poi il sociale, disturbi dell'apprendimento. La riabilitazione è possibile. Proseguiamo. Donne sindaco, testimonial dello screening. Asl, colon, mammella e utero sono loro le protagoniste delle tre campagne di prevenzione contro i tumori. Davvero una bella iniziativa. Nell'articolo possiamo citare il nostro collega di redazione, articolo curato da Jacopo Forcella. Andiamo ancora avanti. Parliamo sempre di Teramo. La Camera di Commercio lascia solo le briciole alle imprese di marzio di confartigianato critico sulla ripartizione dei fondi. Tagliati due milioni e mezzo alla promozione. Proseguiamo. Largo San Matteo serve un anticipo restyling del corso. La ditta chiede di partire con i lavori della copertura a gennaio. Ancora avanti. Provincia, allarme rosso per i furti in montagna, ronde cittadine e pattuglie delle forze dell'ordine. Non bastano a difendersi. L'entroterra chiede aiuto al prefetto. Andiamo ancora avanti. A rischio anche l'ospedale di San Benedetto. Rischio declassamento di Santomero. Si aggiunge anche la carenza di personale nella struttura marchigiana. E poi Tortoreto, invece, cambiando argomento, trasportava merce senza licenza. Maxi multa per un camionista. Proseguiamo. Giulianova Mociano. Mastro Mauro perde anche il consigliere Marcello Mellozi. Abbiamo visto anche dal messaggero. Raffica di dimissioni. E poi a Giulianova, passando alla cronaca, rapinato da due romeni alla stazione, i malviventi arrestati dai carabinieri che svendano anche un altro furto. E siamo a Pineto, dove i rifiuti possono diventare oro. I Cinque Stelle propongono all'amministrazione di adottare gli ecocompattatori. A Roseto inizia ufficialmente la demolizione del manufatto abusivo alla foce del Vomano. Roseto è tutto un cantiere. Lavori anche alle scogliere. Pineto, strade affollate per la festa dell'autunno. E tornando a Roseto degli Abruzzi, la carta dei servizi in arrivo anche per gli studenti rosetani. Andiamo ancora avanti per arrivare alla pagina dello sport. Perché ieri sera si è giocata la gara di Coppa Italia al Bonolis tra Teramo e Lupa Castelli. 2 a 1 il risultato finale. Teramo Baby avanza in Coppa Italia. Castelli Romani battuta ai supplementari. Palma e Paolucci ribaltano lo svantaggio siglato. Da Morbidelli per noi al comunale Bonolis di Teramo c'era Andrea Costantini. Andiamo a vedere proprio il servizio sulla vittoria del Teramo in questa gara di Coppa Italia. Il Teramo accede al terzo turno della Coppa Italia di Lega Pro dopo aver eliminato la Lupa Castelli Romani. L'epilogo ai tempi supplementari dopo che i regolamentari si erano chiusi sull'1 a 1. Buon galoppo per i biancorossi. In campo tante seconde linee e giocatori poco impiegati in campionato. Tra i titolari Calvano e Lenoci per loro solo 45 minuti. Partita intera per Dorazio, Di Paolo Antonio e per Rotta. Quest'ultimo fermato per tre giornate in campionato. Vivarini ha regalato una vetrina ai giovani Cerqueti e Troiani, titolari. E nel secondo tempo anche ai Bebi, Tini, Fratangeli e Calderaro. Tanti giovani anche per la squadra laziale che ad inizio settimana ha esonerato il tecnico Giorgio Galluzzo. In attesa del sostituto in panchina c'è il collaboratore tecnico Cioci. Si inizia con una nebbia minacciosa ma che si diraderà nel corso dei minuti. Primo tempo discreto ma è nella ripresa che arriva il botta e risposta. Al settimo è l'ex sanconetano Morbidelli a sbloccare il punteggio. Di forza in mischia. Neanche un minuto che il diavolo pareggia con una bella staffilata di Antonio Palma. Nel finale la lupa resta in dieci per l'infortunio di Crescenzo a cambi esauriti. E il teramo per poco non ne approfitta a cavallo del novantesimo. Gran palo di Dorazio. Poi grande opportunità per Palma. Bravo l'estremo Tassi. Quindi un altro legno di Di Paolo Antonio che rinvia il verdetto ai tempi supplementari. Lorenzo Paolucci ci prova al secondo minuto ma è al nono che trova il destro preciso nell'angolo per il 2-1 che non muterà. Nonostante il diavolo usufrisca di altre opportunità negate però dalla bravura del portiere laziale. Palma possiamo dire che il turno e il termolo passa grazie alla B2. Palma Paolucci. Sì diciamo che sì dai viviamo anche insieme quindi è una doppia gioia dai perché condividiamo tanto insieme. Siamo diventati grandi amici quindi è bello che entrambi abbiamo fatto gol e abbiamo gioito. Bel gol è il tuo. È arrivato subito dopo il vantaggio ospite. Sì sì diciamo meno male così abbiamo ripreso subito la partita e dopo il mio gol abbiamo continuato a giocare bene. abbiamo meritato la vittoria magari anche prima dei supplementari meritavamo la vittoria però è venuta i supplementari e ci prendiamo questa vittoria e andiamo avanti e siamo molto contenti. Di solito la Coppa Italia si dice che è più un intralcio in vista del campionato però per chi gioca meno in fondo non è così. No assolutamente anzi io l'aspettavo da tanto perché comunque è un'opportunità per mettermi in mostra e per mettere minuti nelle gambe. Complimenti al Teramo per questa vittoria tra l'altro vi ricordo che sabato prossimo in campionato ci sarà l'atteso derby del Fattori contro l'Aquila. Siamo alle pagine dello sport del centro si parla del Pescara in questo caso emergenza difesa. Pescara testa un anglo ganese ieri approvato ma può essere preso a gennaio. Si tratta di Daniel Pappoi difensore classe 92 in prova appunto col Pescara vedete nella foto si parla anche della gara con il Como e il Como del tecnico Festa dovrà rinunciare a scuffette brillante ma nel Pescara ci sono molte assenze sicuramente più pesanti. Tra l'altro proprio nelle prossime ore si saprà ma c'è un velato ottimismo se potrà tornare in campo Campagnaro dopo l'infortunio. Intanto parla Zampano, Oddo mi ha aiutato a crescere il difensore destro, gioco nel suo stesso ruolo e questo mi favorisce. Cosa ci manca? Grinta e cattiveria. Andiamo ad ascoltare proprio l'intervista con il difensore della formazione Biancazzurra. Comunque bisogna vedere la parola dopo la partita. Noi comunque siamo una squadra giovane e dobbiamo capire secondo me che comunque il campionato di Serie B non è soltanto fatto da fattori tecnici, comunque da individualità ma anche da temperamento, da agonismo che ci metteva in campo. Infatti contro l'alternario proprio all'inizio partita non è che siamo partiti benissimo. Poi dopo comunque l'espulsione che manco c'era secondo me poi non l'ho rivista. E poteva comunque andare meglio la partita. No, sicuramente le squadre tra le vetri piccole che vengono qua comunque si chiudono tutti dietro perché facciamo fatica a fare gioco. Cioè loro si mettono 11 dietro ed è normale che fai un po' fatica. Mentre magari contro il Cagliari come si è visto che abbiamo vinto anche 1-0, hanno fatto una gran partita. E più diciamo, cioè riusciamo a esprimere il nostro meglio. Dobbiamo cercare di adattarci come contro la Ternano, Novara, a delle squadre così che loro si chiudono. Cerchiamo di adattarci al loro gioco, a magari correre di più, a lottare su ogni pallone che magari non abbiamo fatto. Vabbè, sono venuto qua per cercare di salire col Pescare comunque. Io con i miei compagni ce le ne ho bene in settimana, poi se le ne ho bene in settimana comunque il sabato dà il meglio di te stesso. Io vabbè sono contento a livello personale però come squadra le ultime due partite abbiamo perso quindi non posso essere contento. Io comunque secondo me devo iniziare a calciare un po' di più quando arrivo sul fondo e niente perché riesco comunque a fare gli assist magari alla paduola così che sono sicuro che riesco a metterla dentro. Parliamo del Lanciano, Capitano Mammarella col Crotone, la Virtus fa il pieno di stimoli, dice l'esperto difensore Rosso Nero. Il terzino dice faremo qualsiasi cosa per uscire dal momento no. Oggi, e questa è una giornata importante appunto per quello che sto per dirvi, la FIGICI farà sapere se la gara Virtus-Lanciano-Crotone si disputerà al Biondi o allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara. Ieri una giornata anche dedicata alla solidarietà per il Lanciano, giocatori rossoneri nella casa circondariale hanno fatto da mister alla partita di solidarietà. Proseguiamo, Lega Pro, il Baby Paolucci regala al Teramo il passaggio del turno, abbiamo visto il servizio di Andrea Costantini con le interviste di Jacopo Forcella, 2-1 il finale. L'Aquila, Perrone gioca la carta dell'ex Ligori, un attacco potrebbe rientrare De Sosa insieme a Ceccarelli, per Maccarone nessuna lesione ma non sarà della partita. Sabato, come vi dicevo, il derby al Fattori. E poi siamo al Chieti, in campo all'alba, i giocatori neroverdi come operai e agricoltori. Ronci ha diretto l'allenamento che era ancora buio, così capiscono i sacrifici. Il patron Pomponi dice se la squadra non cambia atteggiamento me ne vado e ne mando via 20. E dunque il patron Pomponi è sul piede di guerra, se così possiamo dire. Buone notizie per il calcio a 5, il Pescara che batte la formazione dello Scopi Macedoni, dello Scopi per 2-0 nel prima giornata della UEFA Cup in corso di svolgimento al Palagiovanni. Paolo II per la formazione bianca-azzurra, le reti di Calderolli e Rescia. Proseguiamo ancora con il basket. Un'altra bella notizia, questa volta per la Proger Chieti, dalla paura al trionfo. Un grande Parks spaventa le furie, poi Ernuo De Piazza prendono per mano i biancorossi e annichiliscono Trieste. Proger Chieti batte Trieste, 89 a 68, nell'anticipo della Serie A2 di palla canestro. E chiudiamo con lo sport del messaggero Zampano, voglio la A, abbiamo ascoltato l'intervista del giocatore bianca-azzurro. Il lanciano tra i figli dei detenuti, il gol più bello in attesa di sapere dove si giocherà la gara di campionato con il Crotone. E poi Elite Round UEFA Cup, il Pescara parte bene. Bel colpo Proger, come detto la vittoria per 89 a 68 su Trieste. Intanto Roseto, gli Sharks pensano a Legnano, una squadra da trasferta. E poi il calcio di Lega Pro, Teramo avanti dopo i supplementari, dice il risultato di 2-1, risultato finale. Chieti, primo giorno di punizione, si corre all'alba con allenamento alle 6.30. E noi invece siamo giunti al termine del nostro consueto appuntamento giornaliero con Mattino 6. A me, come sempre, non resta che ringraziarvi per la cottese attenzione, darvi appuntamento a domani con un nuovo appuntamento con la nostra Rassegna Stampa, ricordandovi il prossimo appuntamento della cronaca per la giornata di oggi con la prima edizione del nostro TG6, come sempre, alle ore 14. Grazie e buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.